Allora ragazzi ho qui un nuovo video, in questo video siamo in tanti, ora c'è Unnamed, Francesco e Alessio che sta qua dietro però non si vede Allora, perché di qua? Allora, questo qui è un altro per ora non spaventarti e direi di avviarlo Dai su Attenzione, Scary Imagines Wow, davvero paurosissimo Wow Ce l'hanno fanno uno dei veri anziani Assistenza Dai, ce l'hanno uscite peggiori in twilight Scary Imagines with creepy music and slower Ah, qua bisogna al cellulone Eccง Oh, ragazzi se ci mettessi sottofondo una musica, tipo di gattini Gna 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 gna, un confronto effetto avesse questo vorrei farlo vorrei averci lì ho tipo dei denti che riflesso allora fatti spentosi un uomo nel 1890 non il 1890 ha fatto qualcosa ha ucciso l'iphone 5 vaffanculo telefono ha ucciso una donna di 23 anni un adulto a mangiato la faccia di gianna razza al più bellissima vi ha dei tratti giganti non c'è due bambini in africa livello 4 punti 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 jans carlo su già no livello 5 ma dai i gif gif ah si amore ciao vediamo adesso ci dallo schermo ah questo qualcosa ah lscp questo si allscp che assomiglia a quello la di assassin credo eh si esatto chi l'ho nomorato questo qua il coglione non ci sono seans silencivort ecco la storia del giallo scherzo 3 2 e ora è fatto Stai fatto I'm standing right behind you Ciao Sto a vedere così Ciao stronzo Tu non lo hai fatto Stavo con me Stavo con me Ciao stronzo Non lo hai fatto via l'infarto Fantasmo Mi zio ha sopportato Ma si è fossa Già quello scortatore Ti voglio Bene Livello 8 Scary gift with scary Cazzo No aspetta te lo voglio farlo vedere Guarda 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 Paurosissimo Sì Lo so L'avevo visto anch'io Vita picco e meno che cazzo non tantissimo Che figo Ah sì questi mi piacciono un botto Ci sono serpati così Oh aiuto Questa Questa è un'altra Genova Dio Per io da 3 2 1 Attenso Ah no Sto appassinando FONT FONT Man, you are ready, it's the one! Alla bella che ho visto questo video, è stato bella! Un saluto da tutti, bella!